A Cava di Tirreni la farmacia Carino offre anche servizi per il controllo della salute. I nostri dispositivi permettono di ottenere in tempi brevissimi referti di pronta consultazione da parte dei medici. Anche quest'anno la città di Cava di Tirreni renderà omaggio a Salvo d'Acquisto, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, siciliano d'origine emanato a Napoli, che sacrificò la sua giovane vita, 81 anni fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, per salvare un gruppo di civili che stavano subendo il rastrellamento ad opera dei nazisti, dai quali poi venne fucilato a Fiumicino. In particolare, la sezione cavese dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta da Antonio Fariello, con il supporto della diocesi Amalfi Cava di Tirreni, ha organizzato una santa messa che sarà ufficiata giovedì 3 ottobre alle ore 10 dall'arcivescovo Razio Sonicelli, presso la chiesa di San Vito, a cui farà seguito la deposizione della corona al monumento collocato appunto in via Salvo d'Acquisto. Per l'occasione sarà presente una rappresentanza dell'amministrazione comunale, oltre a diverse autorità civili e militari. Annunciata anche la presenza di Alessandro d'Acquisto, fratello di Salvo. Abbiamo organizzato anche quest'anno l'ottantunesimo anniversario di Salvo d'Acquisto, che si terrà presso la chiesa San Vito Nuovo, giovedì 3 ottobre alle ore 10. Sarà celebrata la messa dalla sua eccellenza, il vescovo Razio Sonicelli, a cui devo ringraziare, che ha dato la sua piena disponibilità, come anche Don Benemino d'Arco e Don Osvaldo Masullo. Quindi quest'anno sarà forse qualcosa di meglio, perché meglio in che senso? L'anno scorso è riuscito benissimo, quest'anno abbiamo una piccola sorpresa. Dagli sforzi sono riusciti a contattare il fratello di Salvo d'Acquisto, Alessandro d'Acquisto, il quale mi ha dato la piena disponibilità di essere presente in chiesa. Quindi giovedì mattina alle 10 ci sarà anche Alessandro d'Acquisto. È una cosa bella, bellissima, non bella, bellissima. Invito tutti i cittadini che è libero a venersi a sentire la Santa Messa. Dopo la Messa ci sarà un piccolo corteo fino alla lapide di Salvo d'Acquisto dove sarà deposta una corona in suo nuovo suffraggio. Non potevamo non sottolineare questa ricorrenza. La memoria di un martire, la memoria di uno che ha dato la vita per salvare altre vite, oggi parla e deve parlare, deve gridare e deve scuotere le coscienze dei cittadini, dei cristiani e anche di chi non è credente perché abbiamo bisogno di persone che testimoniano, abbiamo bisogno di gente che ci ricorda che il fratello va accolto a prescindere dalla fede, dal colore della pelle, a prescindere da tutto. È un fratello da amare e Salvo d'Acquisto in questo è un testimone credibile, autentico che parla ancora oggi. Quindi ci vediamo tutti giovedì.